Innovazione, automotive, transizione green, tutela del lavoro, temi centrali su cui si gioca il futuro del sistema economico e produttivo, argomenti di cui si è parlato diffusamente con manager di imprese statali e non solo nel recente summit sull'economia organizzato a Pescara dalla regione Abruzzo e che sono anche alla base della voglia di confrontarsi con realtà importanti per avere spunti utili a mettere in campo strategie vincenti dell'assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca. Nelle scorse ore nei suoi uffici di Pescara ha incontrato Eugenio Razzelli, attuale presidente del consiglio d'amministrazione di Safilo, manager di livello internazionale in passato impegnato nel settore della industria automobilistica e oggi presidente di Motor Valley di Modena. È stata una proficua occasione, ha commentato Magnacca, per far conoscere diverse realtà della nostra filiera industriale, per tessere relazioni umane e costruire lo scambio di conoscenze per presentare delle best practice, facendo così leva sul patrimonio di idee e di esperienze conseguite in questi decenni dalle nostre aziende, non solo in termini di competitività. Il manager Razzelli in precedenza aveva visitato gli stabilimenti della Val di Sangro e del Vastese. La crescita, ha concluso Magnacca, nasce dal confronto con altre realtà. La conoscenza è la risorsa più pregiata e immateriale che abbiamo a disposizione.